quando la degenerazione diventa normalità qua c'è l'alito di satana vuol dire che c'è già il sistema dell'anticristo però la cosa grave non è tanto quello perché il mondo lo sappiamo il mondo cosa vuoi e nelle tenebre è che se tu denunci queste cose anche in alcuni ambienti tra virgolette dico cristiani ti puoi fare dei nemici ti puoi trovare chi ti dice ti tirano se un bigoto sei arretrato come sono arretrato perché dicono questo perché sono già adeguati alla all'andazzo dice san paolo all'andazzo di questo mondo perché il mondo inteso come un sistema basato sulla ribellione a dio ai comandamenti di dio a un suo andazzo ma invece siamo cristiani abbiamo un altro andazzo in due parole come ha detto gesù voi siete nel mondo ma non siete del mondo c'è proprietà del mondo appartenente a questo mondo cristo ci ha riscattati ci ha trasferiti scrive san paolo ai colossesi dal regno delle tenebre perciò vuol dire che questo mondo è il regno delle tenebre stiamo alla bibbia e ci ha trasportati trasferiti nel regno dell'amato suo figlio così è scritto in colossesi 1